Buonasera, sono Andrea Carcano e insegno all'Accademia Villa Lobos di Paderno Dugnano ormai da dieci anni. Insegno pianoforte e questa sera ho suonato nell'auditorium Tilane, molto suggestivo, e ho fatto un programma che potrebbe essere intitolato anche La base e la cima, perché era composto di musiche di Bach, le variazioni Goldberg tra l'altro nella versione da concerto di Ferruccio Busoni e tre rapsodie ungheresi di Liszt. La base e la cima perché proprio secondo Busoni questi due autori, cioè Bach e Liszt, rappresentavano la base e la cima del pianoforte. Busoni diceva questa cosa un secolo fa, sono cambiate molte cose, però forse qualcosa di vero c'è. Siccome insegno pianoforte mi sembrava doveroso presentare questo tipo di programma per un pubblico nel quale c'erano anche molti miei allievi.